Sulla promozione del territorio, l'amministrazione pentastellata del capologo Ibleo, guidata dal sindaco Piccitto, non va da spese. Siti web, app e promozioni su piattaforme digitali non mancano e tutto pesa sul bilancio comunale. Dopo il sito internet e l'app promozionale sul castello di Donnafugata, acquistati per 25.000 euro, su segnalazione di diversi cittadini e operatori turistici, ho rinvenuto un'altra determina dirigenziale, datata 31 marzo 2017, con cui si acquistano dalla stessa ditta servizi informatici riguardanti i percorsi Ibleo-UNESCO per la somma di 10.000 euro. Ho avuto modo di visionare questo materiale elettronico e certo devo dare ragione a quanti mi sottolineavano che non si può definire all'altezza degli importi pagato. Ecco perché chiedo all'amministrazione comunale di fare più attenzione nella definizione degli incarichi privati. Ben 35.000 euro per due siti internet e un'applicazione di questo genere mi sembravano davvero troppi. E' l'assenso della denuncia che arriva dal consigliere comunale del movimento civico Ibleo Gianluca Morando, il quale emette in rilevo che, nonostante l'acquisto del sito internet fatto a marzo, ritenuto da parecchi addetti ai lavori non all'altezza della cifra spesa, l'amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi alla stessa ditta senza ritenere opportuno svolgere una ricerca di mercato. Il comune, aggiunge Morando, ha dato seguito ad una richiesta da parte della stessa ditta, richiesta che a marzo risaliva da appena tre giorni prima della data della determina, ma al di là della tempistica è da mettere in rilevo la scarsa trasparenza dell'affidamento senza alcuna comparazione qualità-prezzo con altre ditte del settore. Ci sarebbe da chiedersi come mai, in questa come in altre occasioni, è stato deciso di percorrere questa strada senza in qualche modo valutare quale, a parità di condizioni, avrebbe potuto essere un'altra offerta più vantaggiosa sul piano economico. Siamo molto rammaricati per quanto accaduto e ospichiamo che non si ripetano più episodi del genere. Grazie a tutti.